Sono Tarcisio Scappin e vivo a Gorizia, faccio parte da oltre 42 anni del circolo fotografico isontino. Ho partecipato a diversi concorsi nazionali. Attualmente ho allestito una mostra personale di fotografia a Gorizia presso la galleria Art Open Space su un tema molto interessante e di sicuro valore storico, la caduta del muro di Berlino e la costruzione del tunnel della libertà. L'idea di allestire questa mostra è molto semplice. Quest'anno, il 9 novembre 1989, ricorre il 25esimo anniversario della caduta del muro di Berlino. Ho voluto ricordare questo importante avvenimento con una mostra divisa in tre parti. La prima è dedicata alla costruzione e alla successiva demolizione del muro. La seconda parte riguarda la costruzione di un tunnel. Compito dei progettisti era quello di far passare quante persone più possibili dal settore est a quello ovest. Ideatori di questa impegnativa opera furono due giovani studenti universitari italiani, Domenico Sesta, Pugliese e Luigi Spina, Goriziano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La terza parte ci tuffiamo nella Berlino di oggi, moderna e vivace. Il materiale fotografico proviene da mie varie escursioni in Germania. Il messaggio che si può trasmettere a tutti, specialmente ai più giovani, è molto semplice. Infatti, la mostra vuol dimostrare che conflitti e divisioni nel mondo non hanno mai pagato. Grazie a tutti.